La nozione del negativo nella matematica, nella fisica e in filosofia. La differenza, come forse avrà già accennato Piero la volta scorsa, è che mentre nella fisica e in matematica, come dirà Claudio la prossima settimana, il negativo che viene pensato, viene pensato attraverso poi l'elemento empirico e attraverso l'elemento determinante della matematica in modo che non sia mai assoluto, anche quando si parla di zero, quando si parla di vuoto, il vuoto non è mai assoluto, come vi ha spiegato Martin, dal punto di vista poi anche teorico, la fisica quantistica lo stabilisce, ma anche dal punto di vista sperimentale, dalla misurazione. Se noi misuriamo la temperatura negli spazi siderali, non è zero assoluto, ma è sempre tra i gradi Kelvin, come mai? Ipotesi cosmologiche, Big Bang, eccetera, a parte, noi sperimentalmente non raggiungiamo questa assolutezza, però con la mente pensiamo l'assoluto. E questa è la differenza della nozione del negativo, del nulla, rispetto allo zero e al vuoto. Questo è interessante perché appunto ci consente sia di pensare meglio il rapporto tra queste tre discipline nel farsi della storia, della nostra cultura, ma anche appunto di evidenziare una nostra esigenza, che è l'esigenza di pensare assolutamente, benché questo assoluto ci sfuga. All'inizio del pensiero filosofico, che è anche l'inizio del pensiero scientifico, e che se volete è anche l'inizio del pensiero matematico, nasce prima questa idea di assolutezza, e poi appunto il procedere della scienza, soprattutto nell'epoca moderna, tenderà a sperimentalmente cercare il vuoto assoluto, non trovarlo, e quindi sviluppare teorie, e allo stesso tempo esperienze che invece documentano la relatività dei concetti scientifici. Mentre invece appunto l'esigenza filosofica si ripropone, e si riproporrà anche contemporaneamente. Cioè noi non è che perché vediamo il bastone nell'acqua come se fosse spezzato, e sappiamo che però è un'illusione ottica, non per questo smettiamo di vederlo spezzato, continuiamo a vederlo spezzato. Quindi le funzioni del nostro pensiero continuano a produrre quello che appunto è la caratteristica della nostra specie, che è quella appunto di rapportarci nei confronti del mondo attraverso delle domande di senso. Ecco allora che pensate subito l'assolutezza del nulla, e però la sua contraddittorietà, se invece di pensare all'essere, al non essere, al nulla e all'essere, come il pensiero filosofico ci ha abituato a fare, noi pensiamo la questione del senso, e facciamo essere uguale senso, nulla uguale non senso, e poi facciamo un'affermazione, questa vita non ha senso, esiste il non senso. Ebbene, quando usiamo l'espressione non senso, noi raggiungiamo immediatamente, percettivamente, potremmo dire, nella questione quasi della nostra esperienza quotidiana, l'idea che anche quando una cosa sembra non aver senso, e anzi noi dichiariamo il non senso, quel movimento che noi facciamo dicendo questa cosa non ha senso, in realtà è una estrema forma con cui noi attribuiamo senso, nella maniera minimale. La minimalità del non senso è proprio quella di dire questa cosa non ha senso, è una protesta, ma questa protesta è spesso l'inizio del cammino con cui noi iniziamo a costruire un senso, a provocare la realtà. Quindi la scienza parte ricorrentemente dalla esperienza del non senso, ma per liberarsi da vecchie strutture di senso che non significano più, e allo stesso tempo per cominciare a costruire. Quindi è importante la nozione di nulla, di non senso, proprio perché evoca qualcosa di fondamentale nell'esperienza dell'uomo, cioè la libertà. La libertà. Perché appunto, se noi dovessimo fare schematicamente una suddivisione delle filosofie e del sistema di pensiero riguardo appunto alla funzione dell'essere a quella del nulla, saremmo ben presto, ci accorgeremo ben presto, che le filosofie che pongono l'essere al centro del loro discorso e addirittura escludono la possibilità del nulla, sono anche le filosofie che approdano a sistemi che riducono o addirittura annullano lo spazio della libertà umana. Sono sistemi deterministici. L'essere produce determinazione, ma anche il determinismo. il nulla che spesso si maschera sotto il gioco del caso, per esempio i sistemi atomistici già nell'antichità, penso a filosofi come Democrito e Epicuro, che ammettono appunto delle pluralità. L'essere è composto appunto da una pluralità, una molteplicità, non è riducibile a un'unità e questa pluralità è in movimento caotico, il clinamena per esempio e Picurei, che appunto sono il caso, una declinazione del caso, i flussi potremmo dire non diversamente determinabili, ebbene, questo caso è anche lo spazio che produce dei margini di indeterminatezza per l'azione umana. E così appunto quelle filosofie che sostengono la molteplicità, la casualità, che non sono prevalenti, sono anzi, diciamo, minoritarie se dobbiamo guardare il canone filosofico nel suo insieme, sono anche quelle che creando lo spazio del caso creano anche lo spazio per la libertà dell'azione umana. Viceversa, le filosofie che insistono sulla figura dell'essere, quindi sul tutto pieno, sono anche filosofie che mirano in un modo o nell'altro a una determinazione forte e quindi a una limitazione o un annullamento dello spazio di libertà. Facciamo degli esempi, lo storicismo antico, ma anche nel pensiero moderno Spinoza, nel pensiero contemporaneo, per esempio, il mio maestro, Severino, che appunto concepisce un'ontologia della necessità, la necessità come la figura dominante e prevalente. quindi appunto questa è la circoscrizione del nulla, ma il nulla appunto connesso con la figura del senso e del non senso è importante perché appunto come abbiamo cercato di dimostrare in forma diciamo divulgativa con questo volume ma come in realtà credo che sia opportuno, anche il discorso scientifico può utilmente rinunciare a una eccessiva astratezza e formalizzazione e trarre un giovamento da quell'altra forma che era chiusa nella parola contare c'è anche l'avviso di quell'altra parola che dice raccontare e quindi nell'aspetto potremmo dire di narrativo raccontare la matematica dice questa collana e quale miglior modo di raccontare qualsiasi storia che cominciare da zero cominciare quindi dall'inizio e l'inizio e la fine sono in una storia potremmo dire le cose che più si avvicinano allo zero al nulla al vuoto perché si inizia e prima non c'è nulla e non a caso la nostra tradizione culturale religiosa quella ebraico cristiana ha elaborato questa concezione che è una concezione che fonde i flussi del pensiero filosofico con la visione mitopoietica della Bibbia della creazione dal nulla Dio crea il mondo dal nulla ex nihilo dice appunto Agostino ma appunto Agostino producendo questa cosa cosa fa? fonde la concezione dell'essere del nulla dei greci con il testo biblico che non dice che Dio crea dal nulla ma che Dio parte da una specie di vuoto ma un vuoto che è metaforico uno spazio un deserto si potrebbe tradurre le parole bu tu dell'ebraico che descrivono questo spazio diciamo non meglio determinato è appunto con la fusione tra il discorso mitico della Bibbia e il discorso filosofico che si produce l'idea della creazione dal nulla che pensate rappresenta un paradosso perché se io creo dal nulla cosa c'era prima che Dio creasse il nulla e Agostino risponde cosa faceva Dio prima di creare il mondo e Agostino risponde stava pensando come punire coloro che fanno questa domanda e appunto è una risposta tipicamente non so ma anche un po' pretesca diciamo così che però è efficace efficace perché spiega appunto il gioco del paradosso quel paradosso che noi troviamo nella parola nulla nel momento in cui come tutti voi senza dubbio potete sperimentare dice vado lì dite nulla e beh nulla è o non è beh nulla è nel senso che quando io dico nulla ho detto qualcosa o ho detto niente e anche il fatto che ci siano le lingue come l'italiano francese altre lingue che distinguono il nulla da niente come appunto aggettivazione ci dice che il linguaggio ha questo strano cosa che nel momento in cui parla del nulla non può che parlare di qualcosa e da qui infiniti paradossi no? su cui già la filosofia antica giocava il primo pensatore del pensiero occidentale del canale occidentale che non è ancora un filosofo anche se voi lo studiate come filosofo che è Parmenide Parmenide non è un filosofo il primo filosofo della storia della filosofia cioè la filosofia nasce con Platone e nasce appunto con la costruzione di un'opera molto bella artistica letteraria che Platone voleva fare il teatrante per non avere la voce era neufone senza voce dicono i dossografi e quindi a un certo punto si dà a questa nuova disciplina ascoltando uno strano sofista che parlava in piazza e che lo affascina come il canto del cigno ed è Socrate allora cosa fa Platone? Platone prende Socrate che non è neanche lui già un filosofo ma è appunto un sofista di questi strani sapienti sofisti che derivano sofos sofistes quindi coloro che sanno ecco e lo inserisce come personaggio centrale di una specie di decameron filosofico di storie e di incontri che avengono nella polis greca e che di volta in volta raccontano il rapporto di questa strana figura che si sta costruendo che è il filosofo nei confronti dei saperi tradizionali della città sono saperi appunto delle tecniche i saperi tradizionali religiosi e diciamo il teatro il rapsodo quindi il poeta eccetera questi incontri generale dell'esercito i dialoghi di Platone sono una specie di racconto della biografia di Socrate che si forma e poi affronta il processo che poi lo porterà alla condanna e quindi alla esecuzione capitale come scandalo di un sapere che vuole riporre e rimettere ordine nella città che era stata devastata nel suo sapere tradizionale dai nuovi saperi della retorica dei soffizi eccetera e quindi aveva bisogno di un nuovo ordine simbolico Platone è un aristocratico vede che il vecchio mondo aristocratico non può più istituirsi nella città che ormai ha una complessità che non può essere più diciamo organizzata e cerca di riorganizzarlo con un nuovo tipo di sapere e per questo nuovo tipo di sapere costruisce una nuova figura la figura del filosofo il filosofo parla alla polis alla città la sua azione per quanto astratta è un'azione politica perché pone un nuovo ordine alla città questa è la nascita della filosofia ma appunto nel momento in cui la filosofia nasce si inventa una sua storia una sua genealogia un albo di famiglia adesso si usa questa espressione l'album di famiglia e va a pescarlo dove? nei sapienti che sono figure diverse dal filosofo non hanno la stessa portata politica o se l'hanno l'hanno in maniera inconsapevole e che scrivono opere praticamente di poesia tali sono i frammenti di Parmenide che noi abbiamo 154 frammenti per un totale 154 versi per un totale 19 o 20 frammenti quindi quasi niente è questo che abbiamo e quello che abbiamo non ha assolutamente caratteristica argomentativa cioè filosofica l'argomentazione filosofica nasce da un potremmo dire un rapporto dialogico con la città che si poi formalizza e diventerà soprattutto con Aristotele la logica questa strana appunto disciplina del pensiero del logos quindi una sorta di potremmo dire prontuario di come usare bene il proprio pensiero ma appunto prima di arrivare a questo quelli che poi si chiameranno con un'infelice espressione perché puramente diciamo temporale pre-socratici sono assolutamente appunto al di fuori di questa argomentazione logica che fa tesoro in Platone e in Aristotele della grande esplorazione del linguaggio condotta dai sofisti dei rettori dalla rettorica per cui il linguaggio si usa come strumento per convincere i nostri pre-socratici non fanno questo e Parmenide nel suo sull'essere o sulla natura così almeno pare che si chiamasse questo questo poema parla come un sapiente che rivela un sapere potremmo dire poetico religioso il poema di Parmenide del poema noi possediamo senza dubbio l'inizio e poi una serie di frammenti più o meno lunghi il poema come tutti i libri dell'antichità noi non dovete immaginare come questo che ci sono migliaia di copie ce ne erano 4 o 5 copie sicuramente Platone lo ha visto forse Aristotele lo ha visto qualche altro diciamo pensatore dell'antichità può aver avuto in mano il poema intero di Parmenide ma insomma quello che poi abbiamo sono ciò che viene conservato all'interno di opere di altri di quest'opera e la cosa rilevante è che il brano più lungo che abbiamo è il prologo e il prologo ha la caratteristica assolutamente di un testo religioso racconta di un'iniziazione per cui il filosofo chiamiamolo così a posteriori ma è sapiente il mistico il rivelato colui che riceve la rivelazione si trova in contatto di una specie di esperienza mistica con una dea la quale appunto gli rivela che cosa che tutte le cose sono connesse in legami indistricabili tutto è peras tutto è peiras tutto è legame peras è una parola greca molto interessante perché dice sia il limite che il legame ora che tutto sia legato ci riporta un'immagine tipica la dea mediterranea la dea mediterranea del matriarcato pre-indoeuropeo che era la garante dei legami era appunto garante dei legami ma che non componeva lei c'è non ho già il tutto è una lette le immagini di questa dea sono tali che ricaviamo dalla più arcaica testimonianza per esempio di Ferecide un autore della sapienza greca più o meno paragonabile dei pressocrazici ma non inserito in queste perché non filosofo ma poeta Ferecide si parla di questa dea primordiale il mondo è il mantello di questa dea e questo mantello è fatto di legami legami indissolubili questi legami preesistono e sono il cosmo ora quindi il cosmo il ben ordinato un tessuto fatto di legami i nodi sono le connessioni queste connessioni nel momento in cui la dea diventa una dea legatrice pensate alla dea tessitrice tipo appunto Afrodite tipo Artemide sono legami che sono fatti che si possono legare e si possono sciogliere ora la dea di Parmendia è quella che custode dei legami ma non li fa lei sono già preesistenti sono nelle cose stesse allora cosa rivela questa dea rivela appunto che i legami sono tali e non possono essere visti come composti e scomposti e quindi tutto ciò che noi pensiamo essere divenire il mutare colore il muoversi insomma tutte le cose che noi definiamo un mutamento una kinesis dicono i greci sono illusioni sono illusioni perché e qui appunto la prima volta che compare la parola essere e la parola non essere in maniera diciamo rilevante che poi diventerà appunto il modo con cui noi ne facciamo uso all'interno della tradizione filosofica l'essere è il non essere non è questa è una affermazione secondo voi che porta un'argomentazione no è una rivelazione è una rivelazione è una rivelazione quindi non siamo di fronte a un pensatore a un filosofo che argomenta siamo di fronte a un saggio a un sapiente infatti come tale Parmendia verrà presentato venerabile terribile che fornisce una rivelazione e induce i suoi seguaci che dovete paragonare a quello che parallelamente succede sempre nell'Italia meridionale avverrà di via poco in quegli anni e un po' prima coi pitagorici quindi abbiamo a che fare con un maestro di verità che inizia appunto una verità fondamentale cioè che c'è un positivo assoluto e un negativo assoluto che si contrappongono e che quindi noi non dobbiamo cadere nell'illusione perché appunto in realtà davanti a ogni uomo per i greci si presenta una la lettera filosofica fondamentale qual è la lettera filosofica fondamentale per i greci è la y maiuscola avete presente la y in alfabeti diciamo moderni la y è esattamente un trivio perché non è un bivio come erroneamente si dice si va a destra e a sinistra è un trivio perché tu vieni da una strada puoi andare a destra puoi andare a sinistra qui sono tre strade i greci nel trivio mettevano facevano i sacrifici alla dea della morte quando arriva al bivio il mistico parmenideo deve scegliere se scoprire il senso dell'essere che è completamente opposto a qualsiasi forma di negativo e quindi alla luce di questa luminosità che gli si rivela interpretare tutte le variazioni che accadono nel mondo come illusioni come gioco dei nomi o nomata dice parmenide quindi il bivio dice che c'è un percorso quello del non essere che non è praticabile perché appunto che le cose non siano è impossibile perché se l'essere è nulla può essere nulla quindi il negativo non c'è quindi ci possono essere solo due momenti il momento prima della rivelazione del mortale il brotos il mortale che è appunto colui che ancora sta nella penombra dove ci sono illusioni dove le cose sembrano essere e non essere insieme vanno e vengono eccetera quindi dove c'è appunto una oscillazione di tutte le cose in cui noi siamo nell'angoscia come mortali e poi invece appunto al di là del bivio che è il bivio che ciascuno di noi affronta nel momento in cui appunto viene sottoposto all'incertezza e alla diciamo all'angoscia del dover scegliere ecco c'è la rivelazione e quindi la stabilizzazione dell'essere dobbiamo immaginare che i seguaci di Parmenide fossero come una setta tipo i piterrorici che tendeva a purificare la propria vita da tutti gli elementi perturbativi che inducevano appunto a questa oscillazione per tendere sostanzialmente alla stabilità a una isotatos bios la vita più uguale come pensate a a certe forme di saggezza orientale no fachiri diciamo guru che fanno di se stessi un fanno un lavoro su se stessi affinché si venga ridotta quella parte dell'esperienza umana che invece indulge nel mutamento nel cambiamento nell'inquietudine potremmo dire erano delle pratiche spirituali perché per rivelazione questa qua deve valere per tutti la filosofia antica persegue non il sapere che cosa posso sapere la domanda kantiana e della filosofia moderna il fondamento del sapere il soggetto come colui che conosce ecco la filosofia antica non è una teoria della conoscenza la filosofia antica è un bios quindi è una stile di vita un modo come vivere e quindi a maggior ragione prima della filosofia i maestri di realtà le figure e i sapienti hanno una funzione ordinativa tanto in quanto parlano agli individui segnando delle possibilità di esistenza orientando la loro vita quindi la filosofia antica risponde alla domanda come posso vivere per essere felice la filosofia moderna risponde alla domanda che cosa posso sapere quindi si passa a una teoria della conoscenza se siamo di fronte a questa differenza dovete valorizzarla questa differenza questa differenza non è valorizzata nel momento in cui noi pensiamo che la filosofia antica abbia come campioni principali appunto Platone Aristotele e alcuni metafisici e non sia invece come è stata in realtà per buona parte della sua quasi più di mille anni di storia un'espressione di uno stile di vita un'espressione di uno stile di vita perché appunto gli epigurei gli stoici gli scettici cioè tutte queste filosofie sono scuole che accolgono al loro interno le persone tanto in quanto esse vogliono fare un percorso di vita che certo presuppone anche degli elementi conoscitivi ma che ha come fine il raggiungimento di una forma di vita questa forma di vita avrà come suo antagonista e competitore il cristianesimo che si presenta nei suoi primi padri di chiesa come la nostra filosofia barbara è un altro tipo di stile di vita comunitario ugualmente ma una comunità che si estende alla cosmopoli ellenistica e che quindi ha una funzione di questo tipo questo è il quadro storico quindi se noi pensiamo a Parmeni in questo modo non lo pensiamo come l'inventore della logica che non è ma lo pensiamo come l'inventore di una prassi attendente a quella che uno studioso tedesco Klaus Heyrich ha definito la strategia del resto ontologico cosa significa questa espressione significa che l'operazione che fa in questo caso il sapiente ma che poi farà il filosofo è quella di eliminare confinandole nel non essere tutte quelle cose che nella vita producono rischio per la propria concezione dell'essere quindi il resto ontologico dice beh vabbè c'è il divenire c'è le cose che passano allora non c'è il divenire e quindi questo non mi può turbare c'è la morte no la morte è un falso problema non esiste siamo eterni infatti Parmenide sono poco studiati alcuni frammenti che non sono ontologici del 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 poema di Parmenide lui Parmenide sostiene che anche i cadaveri sono questa frase sembra insensata come il vivente è caldo così il cadavere è freddo ma entrambi sono cosa significa questo il tentativo attraverso una prassi ovviamente immaginativa di pensare una continuità pensate per esempio alla filosofia intrinseca cioè al pensiero che è contenuto nella prassi egiziana di diciamo in basso a male corpi è un tentativo appunto di negare la morte di aggirarla attraverso una strettagia per quanto ingenua sia alla luce delle nostre conoscenze è un modo di distinguere l'egiziano pensa che ciascuno di noi sia composto da tre potremmo dire identità una è l'identità corporea e quella si può imbalsamare e salvare attraverso la pratica della mummificazione l'altra è l'identità sociale e l'identità sociale si può salvare scrivendo e dipingendo nella tomba tutti gli eventi significativi della vita dell'individuo e poi c'è l'identità personale quella che ciascuno di noi dice il proprio amore mia beh quella non muore mai perché è l'identità onirica il sogno e il sogno è quello che noi pensiamo essere dopo la morte l'egiziano pensa che appunto come quando io dormo non sento il mio corpo non sono in società con nessuno sono solo me stesso non per questo non sono ecco l'egiziano pensa che il sogno sia ciò che rimane ma questo in molte culture anche nella cultura greca che pensa il sogno gemello della morte fanatos è la morte in greco è sorella gemella è l'altro angelo dell'angelo del sonno quindi appunto tutto questo per dire che il parmendide lavora appunto su questo tema della morte cercando di evitare quello che poi invece verrebbe alla luce di un pensiero del nulla come annientamento cioè il fatto che appunto la morte sia l'annientamento ma appunto il parmendide ha un'intenzione opposta dice no non esiste neppure la morte del cadavere tutto è non ci sono buchi l'essere per parmendide è immaginato come una sfera senza buchi perfettamente euclicum sferas cioè una ben rotonda sfera questa sfera è l'immaginazione appunto di questo autore venerabile e terribile che sta a monte della filosofia perché invece cosa fa la filosofia la filosofia dice con Platone priva la filosofia il nulla viene sperimentato appunto semanticamente viene proposto da parmendide però lo trovate anche nei sofisti dove il nulla diventa un gioco di parole nulla è ma anche se fosse non sarebbe conoscibile ma anche se fosse conoscibile non sarebbe esprimibile questo dice Gorgia nel frammento 3 e Gorgia fa la parodia di parmendide il sofista Gorgia dice Parmendide ha scritto il non essere e sulla natura l'essere e sulla natura io scrivo il non essere un poema che è quello perduto quindi stiamo sempre parlando di congetture che però sono basate su come la filosofia ha letto e diciamo sviluppato la continuità appunto di questa tradizione quindi cosa fa la filosofia con Platone e poi lì il problema del nulla diventa un problema logico e quindi diventerà quel gioco che ritornerà nel canone filosofico ripetutamente la filosofia con Platone dice l'uso assoluto del nulla absoluto se vuol dire sciolto è esattamente la dimostrazione del fallimento del pensiero perché il pensiero è sempre connessione quando noi pensiamo noi pensiamo sempre una relazione pensare è relazionare quindi il pensiero dell'assoluto è una contraddizione evidente vuol dire appunto pensare la cosa e allo stesso tempo togliersene via questa immagine che trovate in Platone la trovate anche in Berson nel novecento nell'evoluzione creatrice là dove Berson nel 1907 dedica l'ultima parte dell'evoluzione creatrice che è un capolavoro della filosofia novecentesca proprio alla questione del nulla e lui dice in realtà il nulla è un movimento del pensiero in cui noi prima riempiamo il tutto tutte le cose e poi le togliamo quindi l'idea di nulla è l'idea che è una specie di idea racchiusa nell'idea di totalità quando noi pensiamo a tutte le cose pensate tutte le cose è irrappresentabile questa idea che abbiamo è un'idea mistica che può essere benissimo paragonata al nulla di tutte le cose perché nel momento in cui la pensiamo allo stesso tempo ci viene meno perché si svuota e diventa una specie di contenitore tutte le cose diventano appunto il contenitore di tutte le cose solo se io penso il negativo penso la totalità del positivo e diceva questo succede diceva Bersant sia nel potremmo dire questo succede sia nell'esperienza nell'esperienza per cui noi in realtà io non vedo mai il nulla di questo libro se lo tolgo vedo un'altra cosa al posto del libro magari appunto il tavolo solo che appunto la persistenza quello che lui chiama il movimento retrogrado del vero fa sì che noi vediamo una specie di vuoto dove c'è semplicemente una successione A di cose B di stati di coscienza dice lui quindi di fatto il nulla assoluto è un falso problema ma già Platone all'inizio della tradizione filosofica risolve la questione di nulla decendo nel sofista che è uno dei dialoghi più complessi la cui questione centrale non è l'essere e il non essere nel sofista come lo dice il titolo la questione è il sofista e i sofisti sono quelli che usano il linguaggio a proposito diciamo per sedurre senza una relazione ma fin tanto che noi pensiamo che il linguaggio sia sottoposto a una concezione assoluta dell'essere dobbiamo andare o con Parmenide che dice che il linguaggio è una sorta di illusione che noi dobbiamo contingentare quindi parlare setta di silenziosi erano i Parmenidei non parlavano poco e usavano solo i nomi perché dicevano appunto parete parete non è che può essere va e non va parete è evocata ed è immediatamente tavolo eccetera immaginate una lingua fatta solo di nomi Aristotele e Platone direbbero dall'interno della filosofia una lingua fatta solo di nomi non può formulare giudizi quindi non è una lingua perché la lingua è la connessione di un predicato con un nome di un verbo e un nome è la relazione che è la lingua per dire questo bisogna uscire dall'antagonismo tra appunto i sapienti alla Parmenide e i sapienti alla Gorgia i sofisti che invece dicono il linguaggio è questa sfera di grande dell'illusionista però è questa la nostra sfera la sfera della città la sfera con cui facciamo gli affari con cui i commercianti ingannano e fanno con cui i commercianti i parole che noi siamo riusciamo a convincere o no le persone quindi nella superficie conta che cosa? la persuasione conta dice Gorgia la parola potente signora che seduce no? che seduce che e questa seduzione della parola fa sì che appunto tutte le cose siano e anche le parole che le dicono e quindi non ci sia l'errore perché anche l'errore è oppure viceversa non esiste nulla ma quindi non esiste neanche l'errore e quindi di via di paradosso i sofisti riuscivano a scappare e a sfuggire nella penombra dice Bratone e invece appunto io voglio smascherare il sofista e scrivo un dialogo che ha come oggetto il sofista ma il centro di questo dialogo che qualcuno potrebbe indicare la teoria la nuova teoria dell'essere dell'essere come eteron come altra cosa e non come totalmente opposto al non essere essere e non essere ma del non essere come diverso dall'essere ma uno dice beh diverso dall'essere ma non essere è diverso dall'essere che cosa è questa trovata di Platone in realtà per capirlo bisogna capire passare da un linguaggio che è i nomi sulle cose e le cose come immobili e un linguaggio pensato come fare nodi vi dicevo prima la dea legatrice è la dea custode dei nodi ma come sono fatti questi nodi questi nodi sono il linguaggio e allora è il linguaggio il termine greco è simploche il nodo che connette le parole e le cose è lì che si decide se una cosa è vera e se una cosa è falsa allora cos'è l'essere e cosa sono l'essere e nulla non sono più la posizione fondamentale dell'essere tutto pieno e del non essere tutto ruoto ma sono potremmo dire quelle lacune quelle smagliature quei buchi che si vengono a creare tra le parole e le cose questa è l'eteron allora cosa succede nel sofista che ho da qualche parte dentro la borsa nel sofista questo dialogo uno dei più importanti di Platone succede che Platone fa una cosa che è la cosa più importante di quel dialogo e che è anche la cosa più importante per la nostra cultura formula la teoria dell'immagine che cos'è un'immagine che cos'è un'immagine perché il linguaggio è immagine delle cose e quindi l'essere e il non essere si giocano nella capacità del linguaggio di rispecchiarle o non rispecchiarle quindi non ha ragione Parmenide o chi come qualcuno che si ispirasse a Parmenide ma il povero Parmenide era semplicemente un maestro di verità che diceva le sue cose per creare una setta di persone felici che non si facessero tormentare dalla paura della morte dalle cose eccetera ma in realtà se qualcuno prendesse quel pensiero e lo adattasse per farne una filosofia ebbene questa filosofia verrebbe a mancare il suo obiettivo perché dovrebbe negare ed è una cosa che voi sentite se avete letto qualcosa di filosofia ricorrentemente Parmenide nega il divenire l'aporia eleatica questa è l'espressione tecnica aporia eleatica aporia cosa vuol dire indecidibilità da una parte il pensiero ti dice una cosa dall'altra l'esperienza te ne dice un'altra il pensiero ti dice che tutte le cose sono e non può esserci non essere dall'altro l'esperienza ti dice che c'è il tuo amico cui volevi bene e il giorno è sparito è andato via oppure che il tuo amico è morto e quindi che le cose vanno e vengono e spariscono anche definitivamente e questo sparire diventa il non essere allora questa contraddizione tra il pensiero e l'esperienza viene chiamata aporia eleatica da Parmenide perché Parmenide diceva esiste solo il pensiero quindi io quando vedo lo sparire e lo interpreto come nulla sbaglio è un'aporia appunto perché io mi faccio sedura dalla esperienza ma invece Platone e la filosofia e la teoria dell'immagine ci consentono di spiegare che questa sparizione in realtà è semplicemente un divenire altro non è un divenire nulla ma un divenire altro e può esserci questa alterizzazione perché esistono delle cose che permangono e delle cose che passano c'è un soggetto per esempio io vado a Venezia e non sono più qua allora cosa succede? succede che da essere qua andare a Venezia cambia il predicato ma rimane il soggetto quindi ci sono permanenze e differenze quindi il non essere non è mai un non essere assoluto ma è un non essere relativo e quindi è un etero un essere altro rispetto all'essere un essere diversamente ecco diremo con una traduzione che forse è migliore l'essere diversamente questa cosa può avvenire perché il linguaggio è l'emissione sonora del logos il quale a sua volta è l'immagine del pensiero cioè il linguaggio è l'immagine del pensiero e questa connessione dell'immagine è importante perché l'immagine non è più quella arcaica dell'Eidolon i greci appunto chiamano Eidolon immaginetta il simulacro che si mette per esempio sulla tomba e che non era simile al morto cioè una statua ma era proprio come il menhir una cosa che si metteva sulla tomba ora l'Eidolon sta al posto di ma non è somigliante è un'assoluta dissimiglianza l'Eidolon appunto però evoca che ci sia un rapporto tra l'immagine e la coppia l'originale e la coppia diciamo così che è un rapporto di derivazione automatica come succede nelle immagini della natura noi quando andiamo in un bosco c'è un ruscello ci guardiamo e vediamo la nostra immagine di fless sono immagini naturali ma in realtà quello che il sofista e Platone scoprono ragionando su questa cosa dell'essere nulla che noi con il linguaggio ma con le arti con le cose che facciamo con i simboli con i disegni con la scrittura continuamente facciamo immagini le produciamo il problema è l'Eidolon poi che cioè il fare immagini il fare immagini deve essere distinto tra le immagini che sono fedeli e che quindi hanno una relazione con la cosa e le immagini invece che sono seduttive infedevi e lì scatta il problema diciamo della nostra cultura no? quello di distinguere il vero dal falso ma il vero dal falso si distingue dentro l'essere dentro la teoria dell'immagine grazie a Platone a partire da questo quindi la storia del nulla cambia profondamente perché il nulla sarà sempre qualcosa che si intromette tra il rapporto dell'immagine propria e l'immagine impropria il fantasma potremmo dire è l'immagine adeguata ma il nulla è anche se voi vedete nella storia del pensiero occidentale qualcosa che sta all'estremo elevato o inferiore dell'essere Platone nella Repubblica in un famoso passo penso che sia il 509 del sesto libro dice che il bene supera l'essere in dignità e potenza e cosa significa questa frase? significa che l'idea del bene è talmente positiva che è più dell'idea dell'essere questo passaggio che rimane così nel testo della Repubblica in maniera abbastanza limitata nella sua diciamo importanza verrà subito assunto nelle letture successive fino al neoplatonismo quindi fino al quinto o sesto secolo dopo Cristo verrà assunto come il modello di un nuovo modo di pensare al nulla rispetto all'essere cioè un nulla potremmo dire che è talmente potente che sta al di là dell'essere verso l'alto per esempio il nulla di Dio il pensiero mistico ciò che non si può determinare con l'essere noi diamo nomi abbiamo detto usiamo il linguaggio ma questo nel momento in cui pensa Dio e dice Dio giunge a quello tramite la teologia negativa che non si può dire per cui Dio è al di là e oltre e questo essere oltre la determinazione Dio è buono no è molto è al di là dell'essere buono Dio è è luce è una luce talmente luminosa che va al di là di ogni luce questo pensiero iperbolico è negativo spinge a pensare un essere come potremmo dire la sorgente dell'essere un oltre essere e appunto l'ultimo dei grandi filosofi antichi Plotino penserà appunto l'uno come qualcosa che sta al di sopra anche dell'essere e l'uno sarà appunto il principio unificatore di tutte le cose anche quindi delle cose che stanno differenziate sotto che sono essere ma all'estremo opposto sta la materia è la materia che cos'è se non essere ma un altro tipo di non essere un altro tipo di nulla è il nulla come mancanza che ha in odio perfino a se stesso dice Plotino ed è come uno specchio quindi tutta la manifestazione in questo ultimo dei neoplatonici pagani e il grande ispiratore del neoplatonismo cristiano per esempio appunto del neoplatonismo della mistica Meister Eckhart eccetera eccetera pensa appunto l'essere come una sorta di spazio al centro intermedio tra il nulla del principio e il nulla della materia c'è un nulla come differenza assoluta anche dall'essere e c'è un nulla come appunto potremmo dire lo specchio infimo la dimensione potremmo dire senza immagine che riceve tutte le immagini vedete come la questione dell'immagine è fondamentale la materia è una sorta di sostrato in cui le immagini si riflettono questo il pensiero antico lo trasmette alla tradizione neoplatonica la quale tradizione neoplatonica non è così astratta se sta alla base per esempio di un pittore come Botticelli e della grande storia dell'arte rinascimentale laddove appunto l'immagine è proprio quella cosa che si riesce a catturare a fissare rispetto alla scivolosa potremmo dire lo scivoloso sprofondare nel nulla che avviene per esempio potremmo dire nella esperienza del malinconico il malinconico che è anche secondo un famoso problema aristotelico che verrà ripreso nel rinascimento l'uomo di genio l'uomo di genio è malinconico perché ospita le immagini però non riesce a governarle se riesce a governarle diventa il genio diventa il grande artista e appunto sono malinconici tutti i grandi artisti del rinascimento perché appunto combattono con le immagini e quando riescono a fissarle fanno l'opera d'arte ma se non riescono a fissarle sono appunto malinconici la malinconia se pensate all'incisione di Dürer è appunto pensosa ma questa pensosità sembra anche una forma di sonno un prender sonno perché appunto di nuovo il sonno la morte il nulla sono nella dimensione questo testo il nulla e le tenebre di Fredegisio di Tours che è un pensatore un monaco dell'ottocento non 1800 dell'ottocento proprio ecco età carolingia ecco è interessante perché cosa fa? giocando sulla questione che il nulla è sempre qualcosa se noi lo nominiamo mostra come nel nulla ci siano un sacco di metafore il nulla e le tenebre il nulla e il buio il nulla e la morte il nulla e il dolore il nulla e la sofferenza è in qualche modo vero quando il pensiero filosofico torna sulla questione del nulla per esempio nel 900 con Martin Heidegger Heidegger nel che cos'è la metafisica dirà che pensare logicamente cercare di sforzarsi con la logica o con la metafisica di pensare il nulla è una sciocchezza si conclude il nulla appunto cioè si conclude nel fatto che noi non siamo in grado se non di dire dei paradossi ma questo significa che il nulla allora non c'è e dice Heidegger facciamo un esperimento su noi stessi cerchiamo di sentirlo il nulla non di pensarlo è un'operazione che appunto abbiamo fatto siamo nel 1229 e Heidegger lo fa pensando a quegli stati d'animo che ci introducono al nulla per esempio abbiamo detto la malinconia ebbene la malinconia in quella versione moderna che è la noia è un po' il sentimento del nulla niente ha senso che noia che barba ecco cioè la noia è una percezione di noia nei confronti del mondo inizialmente ma poi questa noia diventa anche la noia di se stessi in qualche misura e approda nella condizione in cui noi ci annoiamo ci si annoia si annoia diventa un'impersonalità ma lo stesso di la stessa cosa potremmo dirla anche per un'altra fondamentale condizione emotiva dice Heidegger l'angoscia quando proviamo angoscia per esempio l'angoscia è la morte ma anche l'angoscia per il dolore ma l'angoscia che cos'è se non una paura senza oggetto ecco che sentiamo al nulla perché appunto questo oggetto non c'è infatti quando abbiamo un'angoscia è una crisi di panico o angoscia eccetera a un certo punto improvvisamente mi passa uno ti domanda ma cosa c'era cos'era e tu rispondi niente niente perché appunto l'angoscia è causata a qualcosa che non riusciamo a definire ma che sentiamo e allora dice Heidegger non dobbiamo pensare logicamente il nulla non dobbiamo cercare di agganciare il nulla all'essere metafisico dell'antica metafisica classica dei greci ma dobbiamo invece sentire il nulla e senza dubbio il sentimento del nulla è qualcosa che appartiene alla dimensione umana soprattutto quando nell'angoscia noi siamo messi di fronte alla scelta vado di qua o vado di là prendo questa cosa o prendo quell'altra lì nessuno mi risponde nessuno mi dice però io sento che sono esposto gettato come dice Heidegger sono gettato in una situazione che non ha nessuna barriera che mi tiene in piedi e quindi sono una vertigine il nulla è appunto questa vertigine della libertà della scelta e quindi il pensiero moderno con Heidegger riqualifica il nulla ma lo riqualifica in via esistenziale ecco mentre la logica per esempio è famosa la risposta che tre anni dopo questo libro di Heidegger darà a Carnap Carnap un logico dirà insomma nulla è quello che si diceva cioè il significato nulla il significato nulla è un'espressione sonora contraddittoria quindi insomma il nulla è semplicemente localizzabile come aggettivo fuori non c'è nulla non significa che fuori c'è il nulla ma si viene fuori non c'è nulla non c'è nulla che tu chiedi c'è quella persona non c'è nessuno no cosa vuol dire che allora c'è nessuno come in Lewis Carroll in Alice e in altri in cui appunto questo giochetto viene riproposto appunto il fante bianco dice nessuno è arrivato prima di me no dice il re se appunto nessuno fosse arrivato prima di te tu non la sareste arrivato prima ecco oppure come il ciclope dice nessuno mi ha ferito e i compagni ciclope si andano via e è diventato matto perché nessuno lo ha ferito ma lui dice nessuno perché è il nome che Ulisse ha dato al posto del suo e così via cioè questi giochi linguistici ci dicono che se noi intendiamo al linguaggio possiamo sempre esorcizzare il nulla dicendo che è un giochetto salvo poi avvertirlo nella nostra vita nel momento in cui appunto si palesa quell'angoscia e quel sentimento di cui parlava Heidegger la filosofia tutto sommato è sempre di fronte a questo biglio rispetto alle scienze mentre le scienze possono anche accondentarsi e dire vabbè io mi limito al mio problema se lo risolvo meglio se non lo risolvo pazienza nella filosofia non ci sono problemi risolvibili ma ci sono soltanto domande che si ripropongono con complessità di tipo diverso quella del nulla è questa domanda è una domanda che viene posta nel momento in cui pensiamo alla filosofia non come a un sapere consolatorio o a qualcosa che risolve per risolvere i problemi se pensiamo che tutti i problemi appunto siano risolvibili ci sono altri tipi di sapere la filosofia invece acuisce quei problemi di cui non sa trovare una risposta e quello del nulla è uno di questi perché è il problema del senso ora noi possiamo girarci intorno possiamo anche fingere che appunto il non senso della vita eccetera ma questa domanda da quando siamo nati ci si ripropone che senso ha tutto questo pensate quando uno purtroppo si ammala quando uno si ammala la prima domanda qual è perché proprio io che senso ha tutto questo ora questa domanda è la domanda del nulla signori è la domanda del nulla perché non c'è una spiegazione lui non fumava e quindi gli è venuta la malattia e un attimo ma quell'altro fumava non gli è venuto niente e allora perché proprio a me oppure appunto che senso ha che la mia vita sia messa alla prova con questa cosa il dolore non si aggira poi si può prendere la pillola non si sente il dolore però non è che si cessa di pensarlo quindi il nulla fa parte della nostra condizione nel momento in cui la nostra condizione è istituita da domande non da risposte l'antropologia filosofica non è una congelia di risposte ma è una congelia di domande che si affinano nel tempo noi siamo una domanda l'uomo è una domanda l'essere umano e questa domanda è ciò che sostanzia la questione della filosofia e il nulla è una di queste domande che sarebbe sciocco ridurre semplicemente a una falsa domanda e una falsa risposta ecco si perderebbe che cosa non la filosofia potremmo vivere benissimo anche senza la filosofia ma quella natura dell'uomo che fa sì che noi sappiamo bene che forse non c'è nulla ma chissà no ecco imporsi delle domande lo sperare il progettare l'essere al mondo la domanda potremmo dire del vivente è in sé intarsiata e scritta dal nulla dalla minaccia del nulla ma anche dalla possibilità che dal nulla possa venire qualcosa di nuovo il vivente è esposto all'evento e dell'evento per definizione non c'è precognizione l'evento il rompe non a caso noi il nulla lo associamo a catastrofi la distruzione la esplosione il terremoto l'apocalisse perché perché appunto la catastrofe non è altro che la forma più imminente dell'evento l'evento non è deducibile come fatto i fatti sono lì davanti a noi spiegabili ma l'evento è quello che rompe dice i fatti non bastano è successo proprio a te è un fatto che tu abbia questa malattia è un evento che sia capitato a me l'evento non è il fatto è il fatto che capita sempre a qualche singolarità quindi la catastrofe è quell'evento imminente che capita a noi tutti e ci rende un noi molto prima che il politico dica siamo tutti uniti e allora così no siamo già uniti dalla catastrofe perché la catastrofe forma un noi la nostra risposta l'umanità non è una definizione che possiamo dare in senso positivo ma è l'insieme di coloro che stanno attorno a una catastrofe e la catastrofe è la catastrofe del senso perché noi ci interroghiamo che senso ha tutto questo e non troviamo risposte se non nei poeti nella cultura nelle forme simboliche che diamo collettivamente e allora ci interroghiamo c'è la catastrofe al centro l'evento e non possiamo fare finta che non ci sia e non possiamo fare finta che non ci sia possiamo illuderci ma questa illusione finisce nel momento noi entriamo nella nostra stanza e cominciamo a pensare a noi stessi a quell'evento che siamo perché noi siamo un evento non siamo un fatto a un certo punto saremo un fatto ma vuol dire che saremo morti quando saremo un fatto è nato è morto quando andiamo in un cimitero vediamo dei fatti ma le vite sono eventi capitano e questo capitare non è riducibile in nessuna formula scientifica ma non per ridurre la scienza ma per lasciare alla scienza il suo compito che è quello di organizzare i fatti ma non si riducono i fatti ad eventi questo è il dramma della nostra essenza mortale qualcuno direbbe e il nulla sta al centro perché l'evento è proprio quello l'imprevedibile il rompe e appunto l'evento del nulla è quello intorno a cui noi tutto sommiato ogni volta ritorniamo per costruire le nostre grandi cattedrali di senso però appunto il nulla non si esaurisce in queste ritorna a aprire barchi ferite noi continuamente torniamo a ricoprire il buco del nulla come scriveva in un passo poetico Bergson del suo libro con il ricamo dell'azione noi agiamo ricamando sopra al fondo del nulla le nostre vite ma noi ricamiamo questo tanto in quanto appunto il nulla ci provoca il nulla il rompe il nulla è questo evento in questo senso quindi io vi invito a riflettere sul senso del nulla grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti